Bellezza a portata di mano, quella delle ville venete. Oltre 4.300 distribuite sul territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, le ville venete rappresentano i più importanti patrimoni storico-culturali e paesaggistici esistenti al mondo. Le ville venete erano i centri agricoli delle proprietà terriere delle famiglie veneziane e dunque si svolgevano nelle ville venete attività di ogni tipo. Bellezza, storia, arte, architettura e agricoltura, le ville sono un geniale mix tra passato e futuro ma anche un attrattore turistico unico al mondo da scoprire grazie alla promozione di progetti come il Grand Tour e il Grand Pass che ripercorrono l'immaginario collettivo di un lungo viaggio che facevano i viaggiatori nel Settecento alla scoperta dell'Italia. Può essere l'inizio di un percorso alla visita delle nostre ville, della nostra regione, del Veneto e del Friuli perché non dobbiamo dimenticare che ci sono ville venete anche in Friuli. Sono anche centri di aggregazione culturale e di identità di un territorio. Ecco, questo concetto di identità fa sì che le persone si riconoscano intorno a un bene che può essere privato o pubblico ma è importante che ci sia. Tra i settori che hanno subito un impatto più drammatico con la pandemia figura certamente il turismo proprio perché è venuta meno la mobilità delle persone totalmente negata dal Covid-19 ma anche la guerra in Ucraina potrebbe presentare forti ripercussioni sul turismo in Italia avendo un impatto regionale non indifferente. Anche il post pandemia richiederà sempre un turismo più consapevole, più verde, più sostenibile e le ville venete penso abbiano tutte le carte in regola per rimettersi in gioco puntando proprio a queste caratteristiche e al turismo esperienziale. Il futuro del turismo è una bella scommessa ed è un futuro che dipende solo da noi deve essere, per essere un futuro radioso, deve essere un futuro di collaborazione perché le ville venete che sono appunto 4.300 come ricordavamo è una naturale rete di impresa e quindi per quanto una possa essere più famosa o meno famosa come villa in realtà tutte si aiutano.